Ciao amici di Youtube, bentornati nel mio canale. Volevo parlarvi di Intercagliari, ma prima di farlo, mi raccomando, non vi costa niente, iscrivetevi al canale e mi fate contento. Iscrivetevi al canale, lasciate like e soprattutto commentate. E ora si comincia. Intercagliari 2 a 2 ragazzi. Ci tenevo a dirvi che il gol di Viola era regolare perché il movimento col braccio di Lapadula lo teneva in gioco ed è stato naturale, hanno detto. Quindi il gol è stato regolare per quello. Quindi intitolerei questo video Intercagliari 2 a 2, nessun furto, gol regolare ragazzi. Quindi ora incominciamo ragazzi. Allora facciamo l'epilogo della situazione anche perché ora se vuole festeggiare l'Inter, lo scudetto contro il Milan deve assolutamente vincere. Io direi che il Cagliari non ha rubato niente, anzi si è giocato la sua partita perché si deve salvare. Non c'è stato nessun furto ragazzi. Mettete nei commenti se per voi ho ragione io perché secondo me, l'ha anche detto l'arbitro, non lo hanno annullato perché il tocco di braccio di Lapadula era in posizione naturale. Proprio ho sentito col VAR in diretta su Dazon ragazzi. Quindi secondo me hanno fatto benissimo a non annullarlo. Anzi il Cagliari è andato anche vicino ragazzi al 2 a 3 e sarebbe stato clamoroso ragazzi. Quindi tanti complimenti al Cagliari. Poi allora riepilogato Inter-Cagliari. Tanto all'Inter bastava anche il pareggio e ormai l'ha vinto lo scudetto. Anche se ora per festeggiarlo contro il Milan dovrebbe vincere la partita contro il Milan. Anche secondo me ormai, neanche il 99%, ormai l'ha già vinto lo scudetto. Magari l'Inter lo vuole festeggiare contro il Milan per fargli una sbruffonata. Però ragazzi, ormai l'ha vinto lo scudetto. La seconda stella ragazzi. Invece il Milan è lì. Magari il Milan lo vincere l'anno prossimo? Punto di domanda gigantesco? Chissà. Rimanete nel mio canale sintonizzati e vedrete. Allora, vediamo la classifica. Sempre più 14 perché il Milan ha pareggiato in casa del Sassuolo e l'Inter ha pareggiato in casa sua contro il Cagliari. Primo Inter, 83 punti. Secondo Milan, 69 punti ragazzi. Poi troviamo. Terza la Juve, 63 punti. Quarto il Bologna che ha pareggiato col Monza. Il Monza sembrava avesse messo il pullman davanti alla porta ragazzi. Quarto Bologna, 59. Quinta Roma, 55. Che deve recuperare la partita di Udine. Quella dove Endicà ha avuto il malore. E meno male ragazzi, il Endicà sta meglio. Ho visto le notizie, sta meglio. Sono andati a trovarlo anche in ospedale. Alcuni giocatori della Roma c'era scritto. Quindi meno male che si riprenda presto. Quinta Roma, 55 punti. Poi troviamo Sesta Atalanta, 50 punti. Che sta pensando all'Europa League. Giovedì c'è Atalanta, Liverpool. Tre gol di vantaggio, dovrebbe farcela per passare l'Atalanta. Vediamo un po'. Poi Atalanta, 50. Settimo Lazio, 49. Ottavo Napoli, 49. Torino, 45. Fiorentina, 43 ragazzi. Poi troviamo Monza 43, Genoa 38, Lecce 32, Cagliari 31, Cagliari 31, Udinese 28, Empoli 28, Verona 27. Frosinone 27, Sassuolo 26, Salernitana 15 ragazzi. Chi andrà in B dopo la Salernitana? Sassuolo 26, a rischio. Frosinone 27, a rischio. Verona 27, a rischio. Empoli 28, Udinese 28. Poi troviamo Cagliari 31 e Lecce 32 che sono leggermente un filino, io direi un filino più tranquillo. Scrivete nei commenti chi secondo voi andrà in Serie B dopo la Salernitana ragazzi. Altre due squadre. Il calendario è fitto ragazzi e quindi il calendario è veramente fitto. E meno male che il Milan l'ha recuperata. Era sotto 3 a 1 in casa del Sassuolo e alla fine ha fatto 3 a 3 ragazzi. Praticamente il Sassuolo ha buttato due punti ma io direi in merito del Milan perché l'ha recuperata 3 a 3 ragazzi. Veramente veramente. Come anche il Cagliari che l'ha recuperata, era sotto due volte e l'ha recuperata. E' proprio come ha fatto Napoli Frosinone. Il Frosinone era sotto due volte e l'ha recuperata. Quindi questa voglia di andare a giocarsi la salvezza in casa delle squadre più forti sta facendo diventare questo campionato di Serie A veramente bello ragazzi. Quindi vediamolo fino alla fine. Vediamo fino alla fine anche chi andrà in Champions e le altre due squadre che andranno in B. Sarà fino all'ultima giornata un campionato di Serie A veramente emozionante ragazzi. Veramente veramente bello. Ah sì e stasera c'è Fiorentina Genoa ragazzi alle 18.30 e poi Atalanta Verona alle 20.45 e se vince l'Atalanta inguaia veramente il Verona ragazzi. Inguaia veramente il Verona. Allora poi diciamo anche la 33esima giornata perché sono curioso di vedere il Verona perché se perde in casa dell'Atalanta verrà veramente inguaiato. Allora è Verona Udinese scontro salvezza ragazzi. Sì, secondo me fanno il biscottone, il pareggio per salvarsi tutti e due. Sabato 20 aprile Verona Udinese ragazzi. Sabato 20 aprile Verona Udinese alle 20.45. Si inizia venerdì, questo venerdì ragazzi 19 aprile con Genoa Lazio alle 18.30. Poi troviamo Cagliari Juventus alle 20.45. Poi troviamo sabato 20 aprile Empoli-Napoli alle 18.00, cosa che se vince il Napoli inguaia anche le Empoli. Invece Verona Udinese a 20.45 è proprio scontro salvezza ragazzi. Chi vince fra quelle due si può salvare. Ma secondo me fanno il biscottone, fanno il pareggio per salvarsi tutti e due. Per salvarsi tutti e due così, così. Poi troviamo domenica 21 aprile Sassuolo-Lecce alle 12.30, Torino-Frosinone alle 15.00, Salernitana-Fiorentina alle 18.00, e Monza-Atalanta alle 20.45. E poi troviamo i posticipi lunedì 22 aprile, Roma-Bologna, Roma-Bologna alle 18.30 e Milan-Inter, cosa che se vince l'Inter festeggia lo scudetto proprio in faccia al Milan ragazzi. E' proprio come se lo avesse a sfrontata agile ragazzi, in faccia al Milan. Milan-Inter 20.45. Sarà un derby veramente infuocato, perché il Milan non ha voglia di perdere per vedere l'Inter vincere lo scudetto. Quindi sarà veramente un gran bel derby della madonnina ragazzi. Rimanete sintonizzati nel mio canale per saperne di più. Allora poi, volevo parlarvi anche della partita che hanno giocato Napoli-Frosinone, l'ho già detto anche nell'altro video, il Napoli è stato una vergogna, sembravano fermi giocando. Capisco tutto, capisco il caldo, capisco che c'era molto sole, capisco anche che magari l'arbitro ha sbagliato qualche volta, ma non puoi rimanere fermo. In un'azione dove l'attaccata del Frosinone è l'anticipato di due metri ragazzi, è stato veramente una vergogna. E' certo che poi il Frosinone ti pareggia e sei in casa ragazzi, devi fare i punti per la Champions. Ma mi pare che quest'anno possono andare soltanto in Conference League il Napoli ragazzi, perché lo vediamo a 49 punti, ottavo, e magari se fa sesto può andare in Conference. Se fa sesto o settimo il Napoli può andare in Conference, cioè settimo la Lazio 49, l'ottavo Napoli 49, sesta la Taranta 50. La Roma forse non la riprenderanno neanche, che è addirittura a 55 ragazzi. Quindi sarà veramente un gran bel campionato ragazzi. Vedremo un po'. Si lotta su ogni pallone ragazzi. E invece quelli del Napoli erano fermi, è stata una vergogna incredibile. Comunque, l'allarme. Chiaer non ha l'altezza, Tiau è irriconoscibile, sto parlando del Milan. Allora, attento Milan, è tornata la difesa da incubo, incredibile. Gol anulati a Ciacuezi, tornano di moda la luce e l'emozione Wenger. Le due reti, soprattutto la seconda, tolte dal VAR al Nigerino del Milan. Se solo Milan alla fine è terminata 3-3. Milan, le ha oda la scossa sui social, siamo ancora vivi. E vedremo giovedì. Roma-Mina ragazzi. Come finirà? Scrivetemelo nei commenti. Roma-Mina di Europa League. Si parte con un gol di vantaggio della Roma ragazzi. Giovedì 11 aprile, 0-1. Giovedì 18 aprile, fra 2-3 giorni, Roma-Mina in ritorno. Chi passerà? Lo vedremo, lo scopriremo fra 3 giorni ragazzi. Intanto io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Vi ringrazio. Iscrivetevi al canale perché non vi costa niente. Commentate e lasciate like. Io vi saluto e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!